Seconda puntata della seconda stagione The Winneries, Alessandro Gioia, che gioia vederti qua al vincitore! Grazie, è una gioia per me! Eh sì, immagino, immagino davvero. A com'è andata questa puntata? Mi sono divertito da matti, bellissima, diciamo tutto quanto, organizzato alla grande. Sono contento, vedrete nei prossimi giorni su Occhio Pavese le sue due performance che sono veramente strepitose e decisamente spettacolari. C'è del fuoco, ci sono degli attacca panni, dei cappelli, delle cose. Lui è un performer nato davvero, quindi io sono felicissimo che abbia vinto. Allora, come ti prepari per la semifinale? Allenandomi. Allenando, perché l'allenamento quanto è importante? Tantissimo, due barra tre volte alla settimana. Essendo della vecchia squadra devo allenarmi tanto se no mi rompo. Vedi, vedi che gli artisti non solo portano l'arte, ma anche la fisicità e l'allenamento. Ci vuole, se no mi rompo. È vero, è importante, è importantissimo. Allora, lo rivedremo, complimenti ad Alessandro Gioia. Ciao a tutti. Ciao, sai cantare, recitare, ballare, suonare, però non così vicino, mi da fa sì. Oppure pensi di avere un talento bizzarro, accattivante o particolare. A questo punto partecipa gratuitamente alla seconda edizione di Bully e Puper Contest. La ricerca dei talenti è appena cominciata. Richiedi informazioni o iscriviti commentando questo video o inviando un sms o whatsapp al numero 320 22 45 117. Ah, si vincono anche dei premi, eh, io vi aspetto sul palco, sono qua a Libari Caffè. Bully e Puper Art Contest dal 19 ottobre, tutti i giovedì, a Libari Caffè di Boghera. Posso? Abbiamo finito? Ok, no, almeno, no, tira su una telecamera che non ho solo le scarpe, non ho solo le scarpe.